Stavo andando a tagliare del legno nel mio mondo vanilla quando ho trovato questo Che cos'è? Ehm, ok Suppongo che ci entri qualcosa con un percorso, esatto Ok, questo sarà il percorso probabilmente di Natale Perché io so che durante le... Diciamo, il periodo natalizio, quindi non necessariamente Natale Però durante questo periodo C'è un'entità molto strana Che sarebbe Babbo Natale Babbo Natale potrebbe diventare horror Comunque queste cose non è che mi facciano molto, vedo Cioè nel senso... È molto semplice da schivare Ok, questo mi ha fatto male però Bisogna stare attenti perché se la becchi nella posizione sbagliata ti fa molto male Invece qua devo dire che sono stato abbastanza protetto Tutto sommato Ehm, ok Io per ora ho paura di andare al prossimo livello Perfetto perché sono andato Via, via, via Allora questa cosa mi ricorda molto però Alice in Wonderland È tipo una nuova serie tv su Netflix Che... Ditemi se la state guardando Perché secondo me è molto bella Allò... Oh mio Dio, no Questo è uno di quei tunnel scuri Dove non si capisce niente Accidenti Perché ogni volta sono costretto a camminare da solo Ma poi sono sempre così ansiosi questi tunnel Va! Via! Brutto schifoso Questo è Babbo Natale Sempre lui È sempre Babbo Natale horror Che poi in realtà sembra tipo Babbo Natale Ma tipo il cappellaio Non so cosa ho appena detto Però tipo c'è un cappello strano Vabbè Andiamo avanti Ok, qua si esce Qua si esce Perfetto Ma io sto ancora vedendo bui Troppo buio No Raga, non sto più vedendo niente Aiuto Dove si va? Dove devo andare? Io qua non... Magari mi ritrovo Babbo Natale davanti Mi scusi? Aiuto! Ok, perfetto Sto meglio Attenti a Babbo Natale